Volumia via con grandi speranze addirittura di liberare il Gandino del Pollaio. Sì, grandi speranze anche perché è ora insomma, sono 15 anni nel mondo del mondo dell'indirizzo che è fermo e in più che in Italia siamo anche fermi, era ora di dare una scorsa al sistema. Praticamente cercando si incontra. Cercando si incontra perché noi siamo chi conosciamo e siamo anche quello che conosciamo perché l'unione di queste due cose ci rende pieni. Siamo cultura ma siamo anche socialità e queste due cose devono essere unite nel web. Possiamo dire che ha superato se stesso, superando Google, anche se però non vuole entrare in competizione con Google. Ce la spiega a tutti, ma perché? Ce lo spiega in propoli. Sì, Google è troppo grande, cioè anche noi la parte di web che ora prendiamo è piccolina perché siamo una piccola vita insomma, però le funzionalità che diamo sono toste per cui anche Google dovrà insomma cambiare le cose e dare un'accelerata a una situazione che è rimasta ferma per troppo tempo. Quindi oggi pomeriggio, una settimana di prova per i primi infortunati ad essere in qualche modo iscritti e poi via via insomma si procederà passo passo. E poi si procederà se non c'è un problema anche stando ad ascoltare quello che ci dice la gente perché magari conta anche quello che le persone hanno da dire, magari facendo le opportune contromedure e poi finalmente sarà libero accesso per tutto il mondo e lì cominceranno le cose belle. Io chiedo un'altra cosa, ci spieghi meglio questa metafora dei gallini in fuga. Gli utenti web sono galline in fuga liberate perché? Gli utenti web è che non se ne rendono conto ma nel web attuale sono galline perché volano basso per cui navigano in una maniera vecchissima che sale a 15 anni fa e per conoscere altre galline vanno volontariamente a chiudersi dentro dei pollai, dentro delle galle che sono i siti sociali come Facebook. È una situazione che se uno la vede dal punto di vista esterno è ridicola però è quello che c'è stato finora. Dando un cambiamento le galline, cioè noi usciremo da questo pollai. Allora, il passo dominare è che io posso cercare ma posso anche trovare altre persone ed essere trovata. Non è che non si riempire più verso la strada del grande fratello? Adesso non posso neanche guardarmi il sito della NASA in pace? Sì, è una buona domanda. Sì e no, nel senso che la scelta è lasciata totalmente all'utente. Cioè è l'utente che decide se vuole essere anonimo, se mostrarsi con la maschera o se mostrarsi per quello che è. L'importante è che chi c'è dietro, cioè in questo caso Volunia, non faccia cose brutte con i dati degli utenti che è quello che ci impegniamo a fare. Il pro sicuro è che in quel momento posso avere uno scambio diretto con gli altri. Ho uno scambio diretto con gli altri anche dall'onimo ma soprattutto nel posto dove io sono perché fa parte dei miei interessi di vita. La nostra vita è piena di milioni di cose che ci sono nel web dove io sono lì posso parlare, potrò parlare con una specie di stanza con chiunque ha gli stessi miei. Sarà una vita più libera. Quali sono le attese per Volunia? Le attese sono che anche i big che ora sono chiaramente troppo grandi per noi si diano una mossa. perché come dicevo io ho pochi dubbi che per cinque anni tutti i motori di ricerca avranno queste funzionalità perché penso che siano utili, che gli utenti le vogliano, per cui che le offrano Volunia o che le offrano gli altri dovranno essere, per cui per una volta ricorreranno all'Italia. Grazie. 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 Grazie a tutti.